Musica Prende corpo l'ipotesi della caserma dei carabinieri di Clusone nell'attuale sede della comunità montana Valle Seriana. Il sindaco Paolo Olini cerca di coinvolgere gli altri primi cittadini. A Castione la questione migranti in consiglio, preoccupate le minoranze, sembrano abbandonati a se stessi. Il sindaco annuncia che non ne arriveranno altri e presto incontrerà il prefetto con i consiglieri comunali. Ad Albino la grande guerra vista da vicino con la mostra allestita all'auditorium comunale, tanto materiale inedito proveniente anche dalle zone teatro di battaglie. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Apriamo quest'edizione del telegiornale con la cronaca. Due agenti di polizia locale in ospedale e una terza persona ferita. È il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato poco dopo mezzogiorno a Spinone al Lago, in Valcavallina, sinistro in cui sono rimasti feriti il comandante e l'ausiliario del corpo di polizia locale di Endine Gaiano. La pattuglia di ritorno da un servizio viaggiava in direzione Lovere, quando si è verificato lo scontro con un veicolo che procedeva nel senso opposto di marcia. Sul posto sono intervenute due ambulanze ed è stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero che ha portato in codice giallo un ferito, mentre le altre due persone sono state accompagnate all'ospedale di Seriate e alla clinica Gavazzini. Voltiamo pagina, prende corpo l'ipotesi di insediare la caserma dei Carabinieri di Clusone nell'attuale sede della comunità montana Valle Seriana. Il sindaco della cittadina Paolo Olini cerca di coinvolgere gli altri primi cittadini. Sentiamo. Olini, quindi ci sono novità per quanto riguarda la caserma dei Carabinieri di Clusone? Le novità è stare sul tema, stare sul pezzo, seguire questo argomento che ci interessa tutti i amministratori ma credo anche tutti i cittadini. Parto dal concetto che il 17 giugno sono stato personalmente convocato dal prefetto. L'eventualità di sistemare e trasferire l'edificio attualmente in uso della caserma dei Carabinieri presso la sede distaccata dell'ex tribunale è stata valutata dal sottoscritto nei miei uffici possibili ma di difficile realizzazione e sicuramente onerosa. Non nascondo, e ne abbiamo già fatto un passaggio, che valutando al medio la situazione personalmente mi sono preso la briga di pensare anche all'edificio dove attualmente c'è la sede della comunità montana. Ovviamente ho dovuto fare un passaggio con le autorità competenti per condividere anche questa eventuale scelta, quindi eventuale proposta di tenere comunque sul territorio una caserma, una stazione che oggi serve 64 comuni a livello di indagini, di controlli e di sicurezza è necessaria per il territorio è necessaria e obbligatoria la condivisione però da parte di tutti i sindaci che oggi vivono in comunità montana perché l'edificio della comunità montana è di tutta la popolazione, è di tutte le amministrazioni e quindi non è certo del comune di Crusone. E quindi con gli altri primi cittadini? L'iniziativa parte da una lettera che in questi giorni ho elaborato personalmente e inviato a tutti gli amministratori in cui chiedo la possibilità di poter proporre all'autorità, quindi a poter proporre all'arma dei carabinieri e al prefetto la possibilità quindi non sto né chiedendo soldi né chiedendo risorse né chiedendo progetti ma soltanto la possibilità di valutare che la caserma dei carabinieri possa essere trasferita lì. Da lì potrà partire un iter di condivisione assieme alle autorità competenti. Ci sono un sacco di problematiche, ci sono tante problematiche anche perché la comunità montana ha subito un accorpamento negli anni passati ma ricordo che la sede dell'attuale comunità montana è stata costruita con i soldi dei 20 comuni che facevano parte della comunità montana quindi c'è da fare anche un passaggio sul patrimonio della comunità montana. Quello che è certo è che il tema della caserma dei carabinieri deve restare all'attenzione dagli amministratori. Io me ne sto prendendo carico, è inutile che poi parliamo che ci sono i furti, che mancano i controlli, che mancano sicurezza se non abbiamo la disponibilità di un immobile che oggi è fatiscente e non permette di svolgere al meglio i lavori alle forze dell'ordine. A questo punto inviando a tutti una comunicazione devo raccogliere le firme, le firme dei sindaci per poi poter, come dicevo prima, riproporre questa situazione. Io credo che sia sotto gli occhi di tutti, con le problematiche che ci possono essere, che è un conto lavorare sull'edificio della comunità montana, che ripeto è un edificio di tutti piuttosto che un edificio come il Tribunale che mi sembra effettivamente molto meno malleabile, molto meno possibilista un intervento lì. I sindaci devono esprimersi oggi tramite una semplice firma che non li impegna in futuro in nessuna situazione ma propone solo ed esclusivamente alle autorità di valutare anche queste ipotesi. A sostegno della sua assoluzione c'è anche il parere delle forze dell'ordine? Devo dire che sabato mattina abbiamo avuto a Clusone il colonnello Storniolo, capo dei Carabinieri di Bergamo, per capirci, e vedendo il raffronto dei due immobili ha sorriso di più su quella che è la sede della comunità montana. Ora però è una questione amministrativa, quindi non c'entra né prefetto né forze dell'ordine, è solo una questione che devono sfilacciare i sindaci e capire i sindaci se la volontà è di affrontare anche questi eventuali immobili. Quindi da parte mia è un'interpretazione mia, ma credo anche di tanti, che anche per un futuro, di quando si parlerà di sedi di comunità montana in futuro, di possibilità di allocare i dipendenti, cioè sono tante le problematiche, non lo nascondo, però oggi se vogliamo muoverci è venuto il momento di prendere delle decisioni brevi, importanti, che diano risposte a territorio. E soprattutto quindi che anche gli altri amministratori si diano un po' da fare? Che gli altri amministratori iniziano a pensare che i problemi si superano, non si creino, e quindi di riuscire ad andare avanti ben velocemente. Perché non è solo un problema di Clusone? No, è un problema di tutto il territorio, di tutta l'Alta Valle Seriana, è un problema che riguarda i nostri cittadini, quindi quando sento gli slogan a favore dei cittadini, operiamo a favore dei nostri cittadini. Andiamo adesso a Castione, dove il Consiglio Comunale si è occupato dei migranti ospitati a Villa Iesus. Se la loro presenza quest'estate non pare aver destato particolari preoccupazioni, nelle ultime settimane sembrano essere comparsi i primi malumori. Se ne sono fatti interpreti consiglieri di minoranza che hanno voluto fortemente la seduta di ieri. Quindi Consiglio Comunale avete fatto questo aggiornamento sulla questione dei migranti? Sì esatto, le minoranze hanno presentato una mozione, l'abbiamo portata subito in Consiglio Comunale, c'era proprio una richiesta di convocazione di Consiglio Comunale urgente, e ieri sera appunto l'abbiamo discussa, abbiamo fatto alcune valutazioni e concordato con le minoranze. Un testo condiviso, quindi è stato emendato il testo originario, ne è uscito un testo che mi fa molto piacere che si sia raggiunto un accordo, quindi è stato votato all'unanimità. È una mozione che evidenzia quella che è la criticità della gestione dei migranti sul territorio di Castione, proprio legato a questo numero abbastanza consistente. siamo a 55 migranti presenti nella struttura a oggi. È una tematica che ovviamente ho sottoposto nella riunione fatta in prefettura e ci sarà un aggiornamento tra l'altro col prefetto, il 6 di ottobre il prefetto ha dato udienza, quindi il Consiglio Comunale di Castione sarà presente negli uffici della prefettura appunto per analizzare questa tematica che chiaramente ha una serie di criticità da analizzare. e la principale questione è proprio quella del numero dei migranti in questa infrastruttura e della loro gestione sul territorio. Noi come Comuni, sia come Comune di Castione ma anche con i Comuni Limitrofi, ci stiamo attivando per arrivare ad avere il patto del volontariato, quindi ad istituire un albo dei volontari all'interno dei comuni che eventualmente sono interessati, ovviamente tra i quali Castione, ma c'è un'oggettiva difficoltà di gestione di numeri. Quindi questo è quanto abbiamo evidenziato alla prefettura, che ovviamente è evidenziato dal canto suo l'oggettiva difficoltà di gestire i numeri complessivi sulla provincia, però la tematica adesso in questi giorni relativamente a Castione è un confronto con chi gestisce, quindi con la ditta, con la cooperativa che li sta gestendo, quindi per migliorare, per rettificare alcune situazioni proprio sulla mediazione culturale di queste persone che devono ovviamente essere integrati nella cultura occidentale, quindi devono essere messi a conoscenza di quali sono le regole di buona condotta all'interno di una società occidentale e quindi una rettifica e un miglioramento di quella che è la gestione della mediazione culturale, una valutazione di quella che è la possibile integrazione, perché di questo si sta parlando, quindi attraverso la possibilità di impiegarli con il volontariato e comunque sempre un'attenzione massima al numero di migranti sul nostro territorio che oggettivamente è eccessiva. Io l'ho ribadito e continueremo a ribadirlo al prefetto, 55 migranti in centro a Castiglione della Presolana adesso con la situazione che ovviamente è di bassa stagione hanno un impatto sociale molto evidente. Questo ovviamente non sarebbe così se si ritornasse ai numeri di 25-30 come era nel periodo di luglio-agosto. Ecco, c'è chi si lamenta del fatto che queste persone trascorrono gran parte della giornata in piazza. È proprio legata a questa tematica, perché essendoci 55 migranti io ritengo che sia normale che in una struttura di ospitalità ci siano presenti mediamente 10-12 migranti stanziali tutto il giorno. Tutti gli altri ovviamente girano liberamente sul territorio come è assolutamente normale e condivisibile. Chiaramente avere 30-40 persone stanziali all'interno del centro abitato storico di Castiglione ha un impatto diverso che invece se fossero 10-12. Noi abbiamo messo a disposizione di tutta la cittadinanza un servizio di Wi-Fi che fortunatamente funziona. È chiaro che nei punti dove c'è questo accesso si creano degli assembramenti stanziali tutto il giorno che chiaramente creano un po' di disagio. Ma è normale, sia che fossero loro ma se fosse anche un raggruppamento di adolescenti sempre fermi nello stesso posto creerebbero comunque delle perplessità e delle domande. e quindi questo si risolve assolutamente con la soluzione di un eventuale impiego in azioni di volontariato ma soprattutto sul numero. Questa è la principale nostra richiesta al prefetto. Quanto alle minoranze, a Castiglione è molto preoccupato della situazione il consigliere indipendente Fabio Ferrari. Non trovando soddisfacenti le risposte dell'amministrazione ha commentato e visto il protrarsi di una situazione di sofferenza nella popolazione abbiamo chiesto un consiglio comunale straordinario per cominciare ad affrontare definitivamente la questione dei profughi sul suolo comunale. Abbiamo inoltre impegnato il sindaco a convocare un incontro formale con le parti che ci dovranno fornire i numeri di questa situazione e convincerci di essere in grado di gestire la permanenza di queste persone. Non siamo disposti a tollerare questa situazione nel nostro paese. I migranti stazionano tutto il giorno in piazza senza fare nulla e questo non fa che creare tensioni. Conclude Fabio Ferrari. È necessario un adeguato intervento dei mediatori culturali ha detto invece Sergio Rossi capogruppo di Comune Insieme per evitare l'impressione poco edificante che i richiedenti asilo danno di sé infatti sembrano un po' abbandonati a loro stessi. È importante invece che si comportino in modo da essere ben considerati dalla popolazione. Servono inoltre piccoli passi di convivenza. Ha aggiunto Rossi. Sempre a Castione è corsa contro il tempo per cercare di reperire le risorse necessarie a far fronte allo smottamento che minaccia la strada verso il Monte Porra prima che inizi la stagione invernale. E per quanto riguarda la situazione lungo la strada del Monte Porra? Anche questo l'abbiamo portato a conoscenza del Consiglio Comunale. Purtroppo il 14 settembre si è verificato un ulteriore smottamento sulla strada che da l'antana porta al Monte Porra nella zona dove c'era stata la frana nel 2011. Quindi la parte della frana è ovviamente ancora in sicurezza perché l'intervento era stato effettuato a Monte di quell'evento franoso del 2011 è iniziato uno smottamento per il quale abbiamo fatto una verifica con lo STER non ci sono state le condizioni per fare un intervento di somma urgenza attraverso le risorse dello STER però è chiaro che noi non possiamo lasciare la strada in questa situazione alla porta della stagione invernale attualmente è istituito un senso unico per mettere in sicurezza l'area e stiamo verificando qual è la possibilità di finanziare in modo alternativo rispetto allo STER questo intervento che con una prima stima di massima si aggira intorno ai 111 mila euro. Chiudiamo la pagina dedicata a Castione andiamo a Gromo dove la Proloco è in difficoltà sentiamo perché in questo servizio di Vladimir Lazzarini. Si sono dimessi nei giorni scorsi i tre componenti del Consiglio Direttivo della Proloco di Gromo il Presidente Massimo Vecchiati il Vice Presidente Flavio Bonetti e la Segretaria e Tesoriera Anna Santos sono già state fissate le elezioni per nominare il nuovo Consiglio si terranno il 24 e 25 ottobre il Presidente dimissionario Vecchiati ha dichiarato all'Eco di Bergamo che le dimissioni sono state dettate dalla mancanza di collaborazione riscontrata nello svolgimento delle attività programmate questo ha obbligato a svolgere una mole di lavoro insostenibile per tre persone Vecchiati auspica che nel prossimo Consiglio possano entrare molte persone soprattutto i giovani e che possa continuare la tradizione quasi secolare della Proloco di Gromo va anche detto che in paese da alcuni anni è attivo un ufficio turistico collegato con promo serio Quando si prende il largo per una nuova avventura c'è sempre un po' di trepidazione un mese fa abbiamo messo online in myvalley.it sapevamo di aver fatto un buon lavoro eravamo convinti che il nostro nuovo sito avrebbe potuto attirare interesse e curiosità ma attendevamo con una certa impazienza la risposta della rete ebbene oggi abbiamo i primi numeri myvalley.it nel suo primo mese ha totalizzato 25.664 visitatori e 72.506 pagine viste per noi è un ottimo risultato e dobbiamo dire grazie a tutte le persone che ci hanno seguito con attenzione e affetto sappiamo di essere ancora all'inizio e che tanto resta da fare per migliorare proprio per questo contiamo su di voi oltre al sostegno non fateci mancare consigli e suggerimenti da parte nostra assicuriamo di continuare a mettere quella passione per il territorio che crediamo sia da sempre il tratto distintivo di Antenna 2 in più un'informazione completa accurata e tempestiva continuate a seguirci e adesso per noi è venuto il momento di una pausa ci rivediamo tra poco grazie a tutti Ricominciamo con il telegiornale c'è la prima guerra mondiale vista da vicino all'auditorium di Albino grazie alla mostra allestita in questi giorni domani anche una serata con il coro idica di Clusone Cent'anni fa la grande guerra 1915 è il titolo della mostra allestita in questi giorni all'auditorium comunale di Albino curata dall'associazione storica Cime e Trincee state ripercorrendo un po' gli anni della prima guerra mondiale presentiamo questa mostra allora anche quest'anno la grande storia è ancora di scena qui al comune di Albino dopo la mostra storico-fotografica allestita l'anno scorso in occasione del centenario dello scoppio della grande guerra 1914-2014 quest'anno proponiamo una seconda mostra storica in occasione del centenario dell'ingresso dell'Italia nella grande guerra che avvenne appunto nel 1915 anche quest'anno la mostra storica è organizzata in collaborazione con l'associazione Cimetri in C e grazie anche all'aiuto e alla collaborazione dei sempre presenti alpini del gruppo di Albino qui porgo i miei ringraziamenti perché senza di loro davvero gli allestimenti sarebbero un calvario ci danno sempre una gran mano anche per quanto riguarda l'apertura e quindi il presidio della mostra la mostra come anche quella dell'anno scorso si articola in due sezioni una sezione appunto fotografica e una sezione invece con oggetti cimeli effetti personali equipaggiamenti a dire il vero rispetto all'anno scorso questa sezione è molto più ricca quest'anno e permette chiaramente al visitatore di calarsi con vivo realismo nelle vicende nelle dinamiche del primo grande conflitto la sezione invece fotografica si ripropone di coniugare il rigore storico scientifico con un approccio un po' più divulgativo cioè si vuole arrivare al grande pubblico non al pubblico di pochi eletti di pochi esperti ma lo si vuole fare comunque con un certo rigore storico e scientifico prevalgono le immagini le fotografie per essere quindi più accattivanti invogliare il visitatore a soffermarsi a vederle a leggere le brevidi da scalie ma ripeto la selezione delle fotografie e delle immagini è stata fatta con grande cura non è facile ripercorrere le vicende di un grande conflitto partendo dalle immagini molte di queste immagini molte di queste fotografie provengono da archivi personali da archivi di collezionisti che fanno parte dell'associazione Cimetrincee per cui sono immagini inedite ma soprattutto queste immagini sono in gran parte realizzate da soldati da ufficiali con le loro prime macchine fotografiche e tascabili per cui queste fotografie non hanno quel taglio quella prospettiva di retorica di propaganda ma sono fotografie sono immagini fresche e genuine che tante volte ci permettono di veramente vedere di lanciare uno scorcio uno sguardo nella guerra nella grande guerra attraverso una prospettiva che non è quella appunto ufficiale ma che è quella ufficiosa che è quella di chi veramente poi visse la guerra sui campi di battaglia ricordiamo fino a quando resterà aperta visitabile questa mostra e naturalmente anche gli orari allora la mostra rimarrà aperta fino all'11 domenica 11 ottobre è aperta gli ultimi tre giorni della settimana il venerdì il sabato e la domenica il venerdì è aperta dalle 16 alle 19 sabato la domenica sempre al pomeriggio dalle 16 alle 19 ma anche la mattina dalle 10 alle 12 durante la settimana se ci sono dei gruppi o delle scolaresche che volessero visitare dovrebbero chiamare l'ufficio cultura del comune di Albino e organizziamo l'apertura con la presenza di qualcuno magari gli alpini si rendono disponibili per fare anche i da ciceroni e spiegare un po' ai nostri ragazzi gli aspetti principali della mostra per cui i prossimi due weekend la mostra è aperta quindi il 3 il 4 di ottobre e il 10 e l'11 di ottobre il 3 di ottobre alle 21 sempre qua presso l'auditorium di Albino abbiamo l'onore di avere il coro Idica di Clusone che ci intratterrà con una serie con un repertorio di canzoni sulla grande guerra quindi appuntamento da non perdere questo sabato 3 ottobre ore 21 all'auditorio di Albino con l'Idica di Clusone aspettiamo tutti gli aspettiamo numerosi e adesso lo sport sfiorano quota 200 gli atleti che domenica prenderanno parte alla prima edizione della 6 comuni Presolana Trail la corsa con partenza e arrivo a Cerete Alto che interesserà anche i territori di Songavazzo Onore Castione della Presolana Fino del Monte e Rovetta oggi la presentazione è ufficiale quindi il numero totale degli iscritti ad oggi siamo a 175 e quindi il risultato più che soddisfacente per questa prima edizione potrebbero sfiorare i 200 da qui ad andare a domenica adesso l'incognita è davvero il pubblico e a nostro malgrado un po' il tempo che non chiamano bellissimo ma il nostro impegno sarà comunque massimo per promuovere le nostre montagne e i nostri paesi come abbiamo sempre fatto avremo negli uomini Antonio Armuzzi nazionale della 100 km così come Paola Sanna anche egli della stessa nazionale un Filippo Bianchi agguerrito capace di arrivare nei primi dieci delle gare di Coppa del Mondo quindi atleti anche di livello ma soprattutto amatori a noi sconosciuti quindi per noi è un grosso segnale di gente nuova che si avvicina per partecipare alle nostre competizioni ma soprattutto gente nuova che verrà a vedere i nostri luoghi quindi questo per noi è sempre il risultato più grande Bruno Serio è felice di promuovere e di raccontare questa gara l'ha preso la Nontra Trail che ancora una volta ci consente di mettere in mostra tutta la bellezza del nostro territorio i quasi 200 iscritti presenti alla manifestazione provengono per l'80% da territori esterni alla Val Seriana questo vuol dire che ancora una volta persone che magari non avevano mai visto la nostra valle potranno conoscerla sia sotto il profilo naturalistico perché la gara corre in parte in montagna e sia sotto il profilo artistico-culturale dal momento che si passerà proprio all'interno dei nostri comuni sono queste le iniziative che ci piacciono che ancora una volta coniugano le attività sportiva alla promozione alla valorizzazione turistica quindi in questa gara non ci sono confini per i vostri comuni nel senso che se vogliamo mischiare il sacro e il profano il politico e lo sportivo non ci sono confini perché se concluderemo il progetto della fusione è chiaro che è una gara che toccherebbe geograficamente due comuni il nuovo futuro comune unico e il comune di Castione quindi sì è bello chiamarla gara senza confini anche per la proprietà sportiva che contiene Ecco Cereto ha un ruolo importante è partenza e arrivo di questa manifestazione Esatto sì è stato scelto Cerete in particolare l'abitato di Cerete Alto dove ci saranno sia partenza che arrivo nella zona del centro sportivo lì si svolgerà anche il pranzo che verrà curato dalla società sportiva di Cerete Alto noi crediamo molto nello sport e nella promozione dello sport e nella tutela e promozione del nostro territorio per cui è un onore avere un ruolo così in qualche modo di rilievo in questa manifestazione gli organizzatori hanno speso tantissime energie sono mesi ormai che stanno lavorando a questo progetto c'è un'importante collaborazione anche con la Paolo Belli di Bergamo alla quale verranno devoluti due euro per ogni iscritto per ogni partecipante l'evento si preannuncia davvero interessante speriamo nel tempo perché le previsioni non sono delle migliori ma in ogni caso la festa la fanno le persone pertanto siamo convinti che l'evento avrà una buona riuscita ringrazio e ne approfitto anche Uniacque che ci ha posizionato una delle sue casette dell'acqua proprio in prossimità della piazza Martiri della Libertà a disposizione di tutti quelli che vorranno dissettarsi a questa gara è presente anche la Paolo Belli è presente con un gazebo di informazione e divulgazione di quanto facciamo sulla zona di Bergamo e di discorrendo insomma Paolo Belli nasce nel 92 abbiamo circa 1500 volontari che nell'occasione delle stelline a tale uova di Pasqua si mettono sulle piazze dei paesi a promuovere la vendita dell'offerta più che vendita delle stelline a tale uova di Pasqua queste raccolte sono state finalizzate ulteriormente e ultimamente con la realizzazione della nuova casa del sole è un centro di ospitalità per pazienti e accompagnatori sono 20 appartamenti dove il malato entra con l'accompagnatore e non è chiesto nulla per quanto riguarda la permanenza vi capite bene che una patologia come quella della leucemia comporta diversi mesi di permanenza sia in ospedale che fuori e avendo l'opportunità di essere vicino all'ospedale permette anche di allievare quelli che sono i disagi delle persone ammalate tengo comunque a precisare ulteriormente che la permanenza nella casa del sole che ora è praticamente completa sono 20 appartamenti la permanenza è gratuita comincia a far freddo e bisogna pensare a prevenire i malanni di stagione sentiamo allora i consigli della dottoressa Antonella Agostini nella rubrica erbe e salute buonasera a tutti questa sera sono qui per farvi una domanda vi siete ricordati di cominciare una prevenzione per i malanni autunnali e poi invernali o forse avete aspettato che la rubrica erbe salute ve lo ristia per ricordare io spero di essere utile in questo senso stiamo cominciando ad entrare in autunno quindi è opportuno che cominciamo a pianificare uno stile di vita di prevenzione che vuol dire un'alimentazione corretta e un comportamento corretto non solo dal punto di vista alimentare ma anche igienistico ma soprattutto l'utilizzo di prodotti naturali che vanno a stimolare il lavoro del mio sistema immunitario in maniera aspecifica prodotti naturali che possono andar bene da chi prende sempre il raffreddore a chi prende sempre la tonsillite oppure a quelli che soffrono di bronchiti sinusiti o quelli semplicemente che sono fragili come organismo e si ammalano facilmente un po' di tutto ricordiamo per esempio i nostri bambini che sono abituati a frequentare ambienti molto popolati e quindi sono più soggetti ma anche persone che hanno malattie croniche dove l'ammalarsi ulteriormente potrebbe provocare ulteriori complicazioni allora di prevenzioni ce ne sono un mare di prodotti naturali per farvi un esempio la prevenzione omeopatica a base di anas barbarie è molto semplice potete utilizzarla da 0 a 100 anni senza alcun effetto collaterale l'importante è farsi consigliare dal vostro medico pediatra o farmacista di fiducia perché la scelta del prodotto è molto importante per mirare in maniera un po' più specifica sull'individuo sul tipo di organismo che avete se non vi piace l'omeopatia potete comunque utilizzare la fitoterapia ricordiamo il ribes nigrum che è un immunostimolante antinfiammatorio a specifico con grande azione ad ampio spettro e si utilizza il macerato oppure le chinacea soprattutto le chinacea purpure e le chinacea angustifoglia che sono le due piante per eccellenza che vanno a lavorare sul nostro sistema immunitario la rosa canina è ricchissima di vitamina C potrei farvi mille esempi quindi il consiglio che vi diamo è ricordate che anche se il tempo non è addirittura invernale non aspettate di essere con la sciarpa al collo per dire oh dio mi sono dimenticato di parare il colpo per l'inverno vi aspettiamo numerosi per una consulenza personalizzata e specifica arrivederci e buona serata per noi adesso una pausa a tra poco per la parte finale del TG a tra poco Grazie a tutti. Grazie a tutti. La chiesa ricorda San Gerardo Abate. Infine le previsioni del tempo. Domani su Alpi e Prealpi Lombarde si prevede cielo coperto o molto nuvoloso per l'intera giornata. Le precipitazioni deboli potranno interessare diffusamente tutti i settori. Temperature stazionarie. E con questo è tutto. Il telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito e buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.